Ciao bambine, ciao bambini! Oggi impareremo a scrivere la consonante Z. Venite con me! Anche la consonante Z è amica delle vocali che sono A, E, I, O, U. E con queste vocali la consonante Z forma delle bellissime sillabe che formano delle bellissime parole. Andiamo a vederle insieme. La zoccola A diventa Z di Zappa. La zoccola E diventa Z di Zerbino. Sapete che cos'è uno zerbino? È un tappeto. Z-I diventa Z di Zip. Quella cerniera che fa aprire e chiudere i vostri maglioncini, le vostre tute. La zoccola O diventa Z di Zoccolo. La zoccola U diventa Zu di Zufolo. Sapete che cos'è lo zufolo? È un flauto, è uno strumento musicale. Allora, rivediamo insieme le sillabe e leggiamo insieme le parole. Za di Zappa, Z di Zerbino, Z di Zip, Zò di Zoccolo, Zu di Zufolo. Rileggiamo insieme le sillabe che sono ZA, ZE, ZI, ZO, ZU. Vi ringrazio per aver guardato anche questo video. Io mando un caro saluto a tutti e a voi, bambine e bambini, tanti bacini! Grazie a tutti!